Semplificazione per i piani di recupero, ampliamenti per le unità produttive, incentivi per i lavori di messa in sicurezza antisismica ed infine possibilità di addizioni volumetriche anche abitative. Questi principali contenuti introdotti dall'ultima revisione degli strumenti urbanistici avviata dalla Giunta Ghinelli sul piano strutturale e regolamento urbanistico. La delibera presentata in Consiglio Comunale è stata approvata con 18 voti favorevoli e 7 astenuti. Abbiamo preso in esame tutti gli 840 contributi che i cittadini hanno mandato da giugno a ottobre. Li abbiamo organizzati in gruppi omogenei e abbiamo estratto tra questi quelli che sono più facilmente trattabili a livello di varianti al regolamento urbanistico con l'obiettivo chiaro di dare un'apertura nei confronti delle famiglie sia per le aziende che quelle poche aziende che ancora sono in sviluppo nel nostro territorio. Noi non possiamo opporgli costantemente di vieti o difficoltà a far crescere le loro strutture produttive. Abbiamo dato un'apertura. Oltre a questo abbiamo recepito alcune variazioni della legge regionale e le abbiamo introdotte nel regolamento urbanistico e infine abbiamo dato un'apertura per quegli incentivi di tipo energetico ma anche architettonico ma soprattutto sismico che possono consentire di migliorare la copertura, la sicurezza degli edifici.